buonasera gelateria primavera e il mitico antonio caffino vi presenta un dolce speciale la settembrino poi tutte le due a dire perché prima profittarò la settembrino perché si chiama settembrino è una figata ma questa è per le vittorie di napoli no no assaggialo perché noi stiamo preparando un'altra cosa però questa è la figata grande antonio la figata di settembre di antonio caffino il loro giudizio facciamo un soldato su questo ciao ragazzi ciao a tutti la compresa